Buongiorno signori e signore, ecco qui il momento più atteso del torneo Sunday Cup, il sorteggio delle semifinali. Ripetiamo brevemente quali sono le due squadre che sono arrivate direttamente in semifinale grazie a una posizione della regola season, diciamo a dir poco, eccezionale, che sono Nati con la camicia e Blue Island, che sono prima e seconda, arrivate direttamente in semifinale. Dai quarti di finale abbiamo appena assistito alla prima squadra che accede al sorteggio delle semifinali, che sono West Ham che vince contro il Millwall 4-3 e siamo qui per assistere al big match che è esattamente Sampdoria contro l'Atletico Amazzini. In questi due foglietti ci sono West Ham e la vincente Sampdoria contro l'Atletico Amazzini e sorteggeremo quindi la squadra che andrà a sfidare i Nati con la camicia. Questi sono i due fogliettini, ripetiamo i testimoni Blue Island, Sampdoria Cimmino, Aldo Di Vito, Sampdoria, Olmo, Sommo, Sommo della Sampdoria e Fabiano di Scala dell'Atletico Amazzini. Facciamo sorteggiare proprio ad Aldo Di Vito. Sorteggiamo, la prima squadra con Tornati con la camicia. Aspetta voglio fare un altro fogliettino, lo voglio piegare perché sennò si può vedere la scritta all'interno. Ok, adesso guarda, questi sono i due fogliettini, mischio dietro. E non li vedi più. Dove metti 50 euro? Guardate, guardate, guardate. Nati con la camicia contro, scegli la mano, scegli la mano sinistra, esposito, apri il fogliettino. Nati con la camicia contro? West Ham. West Ham. E quindi Blue Island contro la vincente Sampdoria, Atletico, Mazzini. Con questo possiamo quindi chiudere il collegamento, passare la linea alla regia. Un saluto da Max, Tornestegap e tutti i ragazzi del Cade di Steggio. Grazie.